Giornata di stallo, quella di ieri per il Teramo. Le trattative con il patron del Francavilla, Gilberto Candeloro, sembrano andare verso un vicolo cieco. Nessun contatto, come invece era nelle previsioni tra i due presidenti, che dunque per il momento restano fermi sulle posizioni con cui si erano salutati al termine della scorsa settimana. Questo di conseguenza fa propendere l'ago della bilancia verso un esito niente affatto positivo della vicenda per l'allargamento della base societaria, anche perché in questo frangente Candeloro è concentrato sul mercato del Francavilla e sul rafforzamento della rosa da mettere a disposizione di Paolo Rachini per la stagione che verrà. Ma la fumata grigia potrebbe cambiare colore in settimana quando è comunque previsto un ulteriore aggiornamento tra le parti per arrivare ad una conclusione positiva o negativa della vicenda. Da quel momento in avanti, infatti, Campitelli saprà se il Teramo potrà contare su forze fresche da investire per il mercato bianco-rosso o se, come più probabile, continuare nella linea di spending review che era stata tracciata al termine del campionato appena andato agli archivi. Con questa seconda ipotesi, infatti, tornerebbero in auge i sacrifici di Nebil Kaidi, il cui procuratore ha esplicitamente ammesso che ci sono possibilità altrove, e quello di Stefano Madio, tornato a Teramo per attaccamento alla maglia e che adesso sembra uno degli indiziati a fare le valigie per non appesentire ulteriormente il bilancio del diavolo. Ancora non ci sono stati gli incontri con i rispettivi procuratori, Alberto Bergossi e Carlo Di Renzo, ma a giorni la dirigenza dovrebbe convocarli per definire con loro la strategia per due adi molto pesanti prima di trovare i relativi sostituti.